Oggi abbiamo completato il puzzle. La Campania ha nuovamente il proprio testo di fronte nella continuità di quanto già tracciato da Vito Pascheri, oggi Presidente regionale. Sicuro e convinto che tutte le componenti possano unirsi e condividere per un programma unico che possa far ripartire in grande la pallavoli in Campania, nuovamente ringrazio quanti hanno creduto e hanno contribuito al successo mio di oggi. Grazie a tutti.